Oggi si riparte in Calabria. Nella serata di ieri la Presidente della Giunta regionale Iole Santelli ha emanato l'ordinanza che recepisce il DPCM del Governo e si adegua alle linee guida stabilita nel corso della conferenza delle regioni. Proprio lì sono contenute le indicazioni relative alle misure di sicurezza che devono essere adottate in ciascuna categoria produttiva. In caso di violazione delle misure si andrà incontro alla sanzione tra cui anche l'obbligo di chiusura fino a un massimo di 30 giorni. Se è vero che da oggi si riparte va assolutamente ricordato quanto contenuto nell'ordinanza e cioè che è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e all'uso di mascherine o di altre protezioni a copertura del naso e bocca in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere appunto rispettata. Si tratta di una misura fondamentale per il contenimento del virus che è bene ribadire non è affatto scomparso. Non a caso la regione Calabria continuerà a monitorare costantemente l'andamento dell'epidemia e in base alla curva pandemica l'ordinanza potrà essere modificata o ritirata. Questo naturalmente è il quadro generale che bisogna tenere presente. Le novità principali nel settore della sanità sono la ripresa oggi dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali anche presso i presidi ospedalieri sia quelle direttamente gestite alle aziende sanitarie che quelle afferenti alle aziende ospedaliere precedentemente sospeso proprio a causa del covid. Ovviamente vanno rispettate le misure di sicurezza e rigorosamente con prenotazioni. L'altra grande novità dell'ordinanza è la riapertura di lidi e stabilimenti balneari a partire dal 20 maggio ovvero da dopodomani. Il dpcm lasciava libere le regioni in ordine a questo tipo di apertura in considerazione del tasso di diffusione del virus. Non a caso nelle premesse dell'ordinanza della Santelli si sottolinea il basso tasso di diffusione del virus in Calabria. Naturalmente prima della riapertura vanno rispettate le linee guida elaborate dalla conferenza Stato-Regioni che stabiliscono distanze e misure. A titolo d'esempio ricordiamo che è obbligatorio assicurare una distanza tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone. Fra altini, sedi e quando non posizionati nel posto dell'ombrellone deve essere garantito una distanza di almeno un metro e mezzo. Sono vietate inoltre attività ludico sportive di gruppo ma è possibile per esempio giocare a palla o a racchettoni sempre se si è in due. Per le spiageribili tutto è demandato alla responsabilità dei singoli fermo restando la necessità di mantenere un metro di distanza fra le persone ed evitare assembramenti. Ovviamente dovranno essere i sindaci a controllare e se non sono in grado di poter vigilare le aree debbono essere chiuse al pubblico. Dopo qualche giorno il 25 maggio potranno invece partire palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati. I spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno del 2020. Per i bambini al decoro del 15 giugno è consentito l'accesso a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche ricreative ed educative anche non formali al chiuso o alla riaperta con l'ausilio di operatori a cui affidarli in custodia e con l'obbligo di adottare apposti protocolli di sicurezza. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per la regione Calabria e all'estero salvo che per comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi gravi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza sempre dopo apposta registrazione sul sito della regione. All'interno del territorio regionale si potrà liberamente circolare senza autocertificazione. Naturalmente fanno eccezione le persone sottoposte a quarantena obbligatoria da parte delle autorità sanitarie. Cos'è che non riapre? Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici e resta il divieto di attività di sale gioche, sale scommesse e sale bingo. Questo in sintesi il contenuto dell'ordinanza che da oggi è in vigore in Calabria, una regione che si avvia verso la normalità. Ma bisogna ribadire ancora una volta che l'emergenza sanitaria non è cessata e gli unici strumenti efficaci per conoscerla sono l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Più ci atteniamo a queste regole più riprenderemo davvero la vita di un tempo.